Sono contento soprattutto per la squadra che oggi abbiamo vinto. Quando abbiamo fatto questo gruppo e ho visto che c'è maggio, io devo sempre allenarmi bene per trovare pronti perché non si sa quando mi metti in campo e quindi mi alleno sempre bene per trovarmi pronti. Sono contento che mi ha dato questa fiducia e oggi mi ha messo in campo, sono contento. L'unica cosa che posso dire è che due anni fa quando sono arrivato era la mia prima esperienza e quindi io ero tutto, non capivo tanto le cose, ma quando ho trovato un buon gruppo, persone per bene, lo staff, i giocatori, tutti, ho visto la tifoseria, fantastico, e poi mi sono cresciuto rispetto a quando sono arrivato e quindi per me all'inizio non capivo tanto le cose bene, ma ora che ho capito tante cose quindi per me eravamo tutti bravi persone, bravi, buoni giocatori tutti. Per me non c'è la differenza tanto su questi due gruppi. Giocatori come Antonio, Maggio e Pugioni sono giocatori che hanno esperienza da Serie A e quindi lo danno tante mani in questo gruppo. Quando vedo le cose non va bene, si organizziamo, facciamo riunioni, tutto questo si aiuta la squadra tanto. e sono contento per starci in queste persone che hanno esperienza nel calcio.